Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come fare invadere così quel dissidente, il cavalliere Bernal e una volta ammazzato possiamo così ottenere questa bellissima armatura, buona visione. Ovviamente tutto inizia da questo cavalliere Bernal che lo trova in questa capanna del maestro guerriero, una volta parlato con lui e aspettato anche la notte ammazzeremo così quel cavalliere che uscirà dalla terra tutto bello rosso e poi una volta fatto lui si trasferirà in questa villa vulcano, questo dissidente che sta su questa sedia, noi andiamo a parlare con lui, se hai problemi con la villa vulcano come trovarla, ci ho fatto una guida sopra, quindi guarda la guida su come arrivare qua, parliamo con lui, io adesso poi io ritorno in questa terra, a Farum, la terra dei draghi, vado qua, ritorno qui e così facendo lui uscirà e potremo poi ammazzarlo senza problemi, però ci dirà anche di ammazzare Raikard, il serpente divoratore. Ci ho fatto quasi due guide sopra su come trovare, uccidere questo serpente divoratore, quindi quello che bisogna fare, io sinceramente ho ammazzato, ho parlato con questo, ho ammazzato Raikard e poi sono andato qui. E basta, non sono neanche andato a questa capanna incontrando così questo cavalliere Bernal. Ci ho fatto così a casa ed è apparso così dal nulla. Questo invasore, ok? Quindi io ora sono alla villa vulcano, se hai bisogno c'è la guida su come arrivare qui, io adesso parlo con la padrona di casa e mi dirà che ho ammazzato il lord, ma tanto ci ho parlato così per vedere un po' cosa succedeva, invece non è successo proprio nulla. Lei parla, poi dopo mi dirà addio e finisce qua. E io adesso vado direttamente nella sala da pranzo e parlo con quel dissidente. Ok. Questa è chiusa. Ecco, questa è la porta. Ed ecco il dissidente di cui vi ho parlato, quindi... Questa è una lettera. Ed eccolo qua. Lui mi dirà, dunque, è ucciso Raikard. Come ho detto, c'è la guida su come trovarlo, come ucciderlo. Vado là, lo ammazzi. Puoi anche prendere la runa maggiore, quindi ho fatto una guida completa su come trovare Raikard. E su come anche prendere la runa maggiore di Raikard, ok? Ci dirà sempre le stesse cose. Ovviamente una volta ammazzato quell'invasore potete ritornare qui e in cambio lui vi offrirà veramente tante cenere di guerra, incantesimi e cose buonissime. E adesso ritorno a Farum. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Proseguite da questa parte. Mi raccomando, non entrate là dentro, se no è un casino perché poi dovete ammazzare sia quelle bestie che l'invasore. Quindi... Eccolo qua, il dissidente. Comunque è bello tosto, eh, questo. Cioè, non muore. È incredibile. Fa sempre le stesse mosse, però mi sono divertito ad ucciderlo. Una volta ammazzato, tanta roba, veramente tanta roba. Quindi, ragazzi, se avete problemi, commentate se vi è stato utilissimo questo video. Vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di lasciare un like per non perderti altri tutorial simili a questo. Quindi, grazie a tutti per questa versione. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Elden Ring. Ciao!